ciao e benvenuti su gallioplay oggi siamo su un nuovo giochino veloce facile easy da platinare mochi mochi poi se si pronuncia così comunque questo giochino è una specie di snake un po rivisto quello che dovremmo fare sarà completare 30 livelli nella tower e eccoci qua questo è il dungeon e fare tre livelli e arrivare al livello 3 nel dungeon quindi arrivare al livello 30 la tower e arrivare a livello 3 nel dungeon quindi partiamo con la tower ovviamente livello 1 diciamo che partiamo difficilissimo livello 1 perché c'è da premere ogni volta per ogni singola posizione non puoi tener premuto comunque va bene livello 2 completato ok trovato il primo slime ci sono da trovarne quattro ma facendo i 30 livelli si trovano tutti ok livello 4 completato uh difficile questo livello ok anche questo è molto complicato devo dire ok ok che setto è fatto ok 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 il terzo è finito ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, siamo a livello 15, quindi a metà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, siamo al 20. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, mancano il 27, il 28 e il 29. Gli ultimi tre livelli. Bene. Perfetto. L'ultimo. Ok, siamo arrivati a livello 30. Quindi possiamo uscire. Quindi possiamo uscire. Triangolo per uscire. Ora, andiamo nel dungeon. Dungeon, play. Dungeon, play. non ho capito. Non ho capito cosa è successo. Ok. 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 Secondo fatto. Secondo fatto. Secondo fatto. Ok. Ed ecco il platino. bene. Per questa video guida al platino ultra mega easy è tutto. Come al solito mettete un bel like, commentate e iscrivetevi. e ci vediamo alla prossima video guida ultra facile. Ciao.